Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI per lavori tre chilometri di coda tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione mare un chilometro di coda sulla carreggiata opposta in direzione Firenze e sempre in direzione Firenze per lavori i code tra Ponte d'Era Est sulla A11 code per traffico intenso in uscita a Prato Est in direzione Pisa sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in pruneta sul raccordo Siena Bettolle scambio di carreggiata in direzione Bettolle tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga sulla statale 68 Val di Cecina dal chilometro 20 al chilometro 22 restringimento di carreggiata per cantiere muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana di Firenze e il comune di Firenze buon viaggio